Con la fatturazione elettronica di Aruba, creare una fattura è molto semplice. Penseremo noi, infatti, a gestire i passaggi più complessi, come la creazione del file XML, i controlli automatici, la posizione di firma digitale. Tu avrai invece a disposizione un'interfaccia web chiarissima, con la quale potrai compilare la tua fattura direttamente dal PC, dal tablet o dallo smartphone. Hai già un gestionale che consente la creazione di fatture in formato XML, ma non sai come inviarle? Nessun problema. Fatturazione elettronica di Aruba ti consente di caricare i tuoi file XML massivamente, selezionandoli e trascinandoli sull'applicazione. E una volta create o caricate le mie fatture, come faccio ad inviarle? Niente di più. Basterà cliccare sul pulsante Invia per far sì che le tue fatture seguano l'interstabilito dalla normativa per arrivare al destinatario. Saremo noi, infatti, come intermediari accreditati presso l'Agenzia delle Entrate, ad assicurarci il passaggio delle tue fatture dal sistema di interscambio, in linea con la normativa di riferimento. Adesso che sai come creare e inviare le tue fatture, vai al prossimo video per saperne di più. Grazie a tutti.